E' l'Italia uno dei paesi maggiormente apprezzati dai consumatori cinesi per l'eccellenza dei propri marchi e delle proprie produzioni. Lo sbarco diretto sul mercato cinese tuttavia richiede investimenti di grande portata e spesso le imprese italiane non hanno la capacità economica per sostenerli. Lo spiegano ad Andrea dove l'amministrazione comunale, il GAL, le città di Castel del Monte di concerto con confimprise del nord-ovest hanno illustrato opportunità e vantaggi per le realtà imprenditoriali locali di crescere ed espandersi nel mercato orientale a attraverso il parco delle eccellenze italiane. Il parco è un'iniziativa governativa di Anjou con la nostra confederazione dove congiuntamente abbiamo deciso di far arrivare quei brand sconosciuti al mondo cinese e quindi sono questi brand che attualmente non sono e non sono stati come posso dire portati in Cina per motivi di natura economica diciamo in maniera trasparente e quindi il governo cinese ha dato questa opportunità di realizzare fisicamente un parco dove tutte le nostre aziende italiane possono domiciliare i loro prodotti e farli commercializzare da quello che è il loro apparato governativo. Con uno spazio espositivo e commerciale di oltre 87 mila metri quadri il parco è collocato in un importante snudo commerciale del sud-est della Cina. Per le imprese di Andrea, spiega il sindaco Giorgino, si tratta di una preziosa opportunità di far conoscere le proprie eccellenze in un mercato in continua espansione come quello orientale. Credo che sia un progetto importante per favorire la promozione delle nostre aziende, delle nostre aziende soprattutto di qualità e ne abbiamo tante in diversificati settori da quello dell'agroalimentare, dell'agricoltura, del tessile, di altri settori di innovazione tecnologica abbastanza importanti rispetto ad un mercato qual è quello cinese che oggi offre ampie possibilità di non solo inserimento in quel mercato da un punto di vista commerciale ma anche per le opportunità da un punto di vista produttivo e credo che sia compito di un ente quello di favorire queste relazioni accordi internazionali, cooperazioni internazionali, visto che oggi ci sono sempre più possibilità di interscambio e quindi dobbiamo favorire la promozione delle nostre aziende, delle nostre aziende di qualità.